Il film Un mondo a parte del regista Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele girato nell'Abruzzo interno e al quale ha collaborato anche il Tg di Reteotto riporta al centro la tematica delle scuole nelle aree interne di montagna e mentre nelle sale gli italiani fanno il tifo affinché il piccolo istituto Cesilio Gentile si salvi la realtà è che nella provincia dell'Aquila si perdono quest'anno oltre 550 studenti la CGL ha ben noto il problema da tempo e da tempo appunto cerca di portare sotto a riflettore la tematica chissà che il cinema ci riesca ad illuminare un po' le coscienze la storia raccontata sapientemente nel film è la realtà di molti piccoli centri la carenza di iscritti in alcune zone mina la sopravvivenza di certi istituti gli uffici scolastici hanno poca manovra ma la situazione ora è drammatica non ci saranno tagli nei posti quest'anno ma è chiaro che la combinazione di spopolamento e poche nascite fa registrare un calo significativo soprattutto nelle scuole dell'infanzia ed è la politica che deve risolvere il problema andiamo verso la desertificazione se non ci sarà un'inversione di rotta un'inversione di tendenza come diciamo sempre è un problema che riguarda sicuramente la scuola che ha ricadute sulla scuola ma fondamentalmente è un problema politico e sociale che vivono tutte le aree interne della nostra provincia che si distingue nella regione per essere la provincia che non ha la costa quindi è chiaro che da noi il problema delle aree interne è più diffuso quest'anno in particolare non sono stati applicati tagli non è stato un anno in cui il ministero e quindi poi gli uffici scolastici hanno applicato dei tagli e quest'anno l'impianto organico è rimasto lo stesso degli anni precedenti noi perdiamo tantissimi ragazzi tra i 18 e i 24 anni e ragazzi che poi hanno davanti a sé prospettive sicuramente problematiche perché oltretutto molto spesso questi sono fenomeni che si verificano all'interno di famiglie più fragili e con maggiori svantaggi sociali grazie 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 grazie